ma è svizzero è svizzero si è svizzero quindi in svizzera che lingua parlano? boh è lo svizzero non ha un pesce visto è lo svizzero in svizzera parlano la lingua del cioccolato e la lingua dei dolci va bene non è a Goliath parleranno il tedesco boh c'è l'Austria c'è la Germania non so che i bimbo potranno parlare ah Gimbo ha ricevuto un archivio vero Gimbo? hai ricevuto un archivio guardate chi è l'host è NICE che schifo è NICE questi 200 dp sono la cosa più bella di tutte adesso vediamo di andare un po' avanti però un pochettino avanti ma immagino che questo ce l'hai con le palle tuoi challenge alla deb e io per fare lo stronzo 800 costa attivare l'energia e poi moriamo franzisco lei è un insensibile franzisco franzisco come come si permette lei franzisco franzisco ok ottimo lo spagnolo di Gimbo misto veneto misto si esatto è una lingua inventata franzisco tu ho 5 punti in più di tutti no non più oh mio dio Gimbo ha trovato la bomba coltellando il primo zombie che ha trovato oh mio dio signore steban signore steban adesso pulire casa lei è sicuro di stare bene Gimbo certo è la troppa epicità che ma ma tu Gimbo sai che prima ti ho detto che ti dovevo mostrare una cosa figa certo preparati per che ho qualcuno a mostrartela mutande nuove parte 2 prima non ce l'ho fatta a mostrartela prima eravamo troppo forte non so da che punto eh guarda dove è il fascio di luce no lo vedo ma non riesco a capire da che punto da che porto ascoltami la porta sinistra porta sinistra questa qua io me ne vado di qua invece me ne sto andando totalmente da un'altra parte ma torni da noi se no lei perde ma no ma sono insieme a voi oh sangue cazzo ma quello non è sangue ma quello non è sangue però vieni su ok grazie cazzo mi uccisci due con la granata quasi uccisione istantanea ma c'è il fov quando si 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 c'è il fov ma dai ma dai ma 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 sto gioco ma che gioco di me ma ma dai ma non è vero si era mimetizzato quello zombie sembrava ma 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 sono giallo io ho bisogno di sangue di zombie ragazzi ho trovato un balista oh ragazzi oh zombie best cattoria roba che vado a terra di nuovo un attimo problema sono un po' fuori allenamento con le coltellate negli zombie non so se la cassa si in generale ma Jimbo eh non so ma non mi stavano attaccando gli zombie non so perché non ti attacca o te non attacchi all'attacco di zombie devi attaccare tu non col sangue di zombie si ma con la mouser come faccio ma con la coltello evviva l'MP40 me lo comprava a muro però costava anche di meno lei mi sta dicendo che c'è l'MP40 Thompson oh mio deo oh mio deo guarda guarda adesso che prendo la Mark II faccio cassa almeno voi avete la Mark II io l'ho lei osservi Jimbo osservo osservo porca di quella troia penso di aver visto un'arma veramente ficca e so che adesso uscirà a me perché la convinzione è con me ok scherzavo orsetto era proprio un'arma che doveva uscirti ok Jimbo cos'è questo arnese infernale? Jimbo lei adesso stia qui con me il globo Wunderfizz è il Wunderfizz si ha un nome figo vero? esatto il nome ispira molta epicità si 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 lei Jimbo stia qui nei dintorni con me che tra poco le faccio provare un'esperienza al di là del paranormale con quale voce l'hai detto? al di là del paranormale sono le stesse parole che usa Francisco ogni volta prima di andare a letto io capisco ti ho parlato I comprendi oh mio deo cosa ho trovato? saltiii fate fare cassa mio deo Jimbo Jimbo tu vai nella stanza iniziale che c'è una cassa vai nella stanza iniziale mi sto ricando in tale stanza ma ho trovato ho trovato dai che una per sbaglio riesco a farla credo per sbaglio ha trovato la cassa? si l'ho trovata l'ho trovata e la sto usufruendo bravo bravo io ho preso un fn folla quindi armi di merda gli ho trovato una phyton minchia tanta roba ho trovato la phyton 7 sto a Kimbo però a Kimbo però oh ma avete mai notato che ci sono tipo le fasce lì che si muovono con il vento? si? io non le avevo mai viste graficamente è bello io non le avevo mai viste hanno la stessa animazione però sono una phyton ci sono i tempi sono uguali ho trovato una grotta segreta sto andando sotto nella grotta una grotta segreta guarda i 3 robot guarda i 3 robot guarda i 3 robot c'è musica ci sono delle porte come sono figli i 3 robot ciao 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 per questo adoro questa per questo adoro questa mappa perchè ci sono questi 3 robot Gimbo a pochi istanti Gimbo a pochi istanti mi sono perso mi sono perso 8 mi sono perso mi sono perso mi sono perso mi sono perso 5 4 4 3 2 1 1 ciao baby è un coglione Gimbo è un coglione Gimbo mi sono perso ho dovuto aprire porte a caso ma non aprire porte no torna indietro si apri porte voglio che sia nel posto io adoro queste cose qua lei non si preoccupi Gimbo lei cerchi di tornare qui da noi eh ma sono dove eravamo prima dove siamo morti tutti sto venendo lì mi aspetti dove c'è il numero 2 per terra mi aspetti che vengo lì certo certo aspetto comunque siamo a round 5 e c'è la cassa qui e c'è la cassa qui oddio c'è la cassa sto arrivando allora lei mi faccia fare cassa però bisogna attivare l'energia io sto girando ma non si sta attivando niente no devi premere F ma ti servono ecco adesso premi F vai ecco vado a premere F non so quanto sia una buona idea ma nascono i templari ma stanno nascendo i templari adesso gira gira non uccidere i templari i templari i templari i templari muoiono da soli però dobbiamo fare lo stesso giro non è stata una buona idea me ne sto dando io sto continuando l'attivazione Gimbo cioè tu ti allontani interrompi l'attivazione è tanta roba cioè dovresti essere adesso al momento prova vai vediamo se ti sento il problema è che qua il mio amico Nick qua con me non si muove oddio stavo per morire ma non ci sta chiedendo ci sta chiedendo Nick di merda Nick deve essere rinnovato Gimbo andiamo oh mio dio andiamo andiamo a salvare con me perché ci ritroviamo sempre il coglione stiamo arrivando stai tranquillo ma non posso sopportare questi coglioni ma tu non devi stare qui a sopportare dai 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 questi coglioni nelle partite pubbliche c'è l'epicità c'è l'epicità la sento in Gimbo corra oddio forse anche di sì sì due giri diversi ma siamo arrivati ci siamo ci siamo ci siamo stiamo vedendo ci siamo non ho copro qui sto coglione ah regà non ho copro qui sto coglione me ne vado via ci sono pette di cose gialle non devo stare qui a sopportare sto coglione Gimbo lei torna indietro con me adesso dove si trova? mi trovo all'interno di questa stanza sono davanti a Rich perché è un cinese che sta guardando punti dove? quello è Takeo? ecco Gimbo venga con me venga con me vengo con lei mi follow mi follow la sto followando ok mi follow no non sono i saldi bomba mi follow mi follow ecco mi sta followando ok bene ok salve qua c'è la cassa vedi la stanza dove eravamo prima ora noi attenderemo qui l'arrivo di una persona quando arriverà questa persona noi le farò fare una nuova amicizia certo sono felice sì sì intanto faccio cassa venga fuori a girarlo fa ancora quel nick di merda scimmie venga fuori a girare sennò qua dentro ci segano buongiorno fra ce l'ho io il tuo sangue di zombie cosa credevi di fare stolto ho trovato un pezzo intanto bene bene tu prendi scudo zombie non so nemmeno io dove sono quei pezzi bene bene che tu li trovi un altro pezzo boh così a caso quanta cosa sto trovando oh mio dio mi sta finendo lo sangue di zombie ragazzi qua fuori c'è un bel casino gli zombie si girano gli zombie mi colpiscono ma ci sono i saldi e io mi faccio saldi oh mio dio oh mio dio oh mio dio i saldi ragazzi noi non dobbiamo stare qui a sopportare no non lo prendo quello schifo mi fottete cioè proprio no 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 non insistete non lo prendo non insistete io non lo prenderò ma francisco ce l'ha in mano francisco mio amor fa me fare la cassa per cortesia col cazzo oddio oh sto giocando meglio di prima tutti con la stessa arma che arma avete a bene che non ho preso per fortuna è una vendetta della cassa oh mio dio ho trovato la ray gun oh mio dio Gimo vuoi che vuoi iniziare anche tu a farmi schifo come fra nella cassa oh mio dio non è oh oh bene adesso dove bisogna andare è finita qua la mappa no no non sei neanche a un terzo tranquillo andiamo a prendere il jaganog per cortesia no dobbiamo attendere perché io devo mostrarle una cosa Gimbo lei non si muova ma siamo al round 7 e a me un jaganog farebbe comodo lei non si muova che io devo mostrarle una cosa tra poco dovrebbe arrivare l'ospite tra poco dovrebbe arrivare l'ospite speciale non so perché ci stia mettendo così tanto stia calmo Gimbo non rischiare la vita stai lontano da lì torna indietro Gimbo adesso sto tornando indietro adesso bene uso come esca Gimbo sto ancora aspettando l'ospite abbia fiducia io sto camperando ok sta arrivando l'ospite Gimbo venga sopra venga sopra salda arrivo arrivo ok guardi di fronte a lei appena gli zombie finiscono oddio oh è andato giù fra è andato giù fra oh mio dio Gimbo allora guardi sotto il piede Gimbo guardi sotto il piede se vede un fascio luminoso bene non c'è il fascio luminoso scappa Gimbo esce da lì no basta basta no su 200 di finge non si può giocare fai una partita privata vaffanculo è infattibile no a sto punto ragazzi questa è la prima parte di questo video nella seconda partita privata aspettate Gimbo ciao 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 andiamo in privata e facciamoli il culo e infatti per favore almeno lì c'ho un 100 di ping stabile o un 80 e vaffanculo coi coglioni il culo il culo il culo il culo ciao intanto chiudo le porte chiudo le porte chiudo le portone siamo al sito scavi64 della francia settentrionale nel 1918 origins e siamo già tutti dentro e ragazzi è arrivato il momento di darvi un buon ping e guardate chi è lost perfetto oh finalmente oh mio dio 90 con 4 g lte oh bene ragazzi io non punterei a un round chissà che altro ma punterei ad esplorare tutta la mappa e soprattutto jimbo a portarti nei meandri dell'oscuro come previsto dal mio piano oh mio dio la sto incuriosendo moltissimo tu sto incuriosendo questo uomo è molto più intrigante di te bucio 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 intrigante bucio intrigante insomma se devi parlare lo spagnolo devi parlarlo bene ma il mio non è spagnolo è un misto di una lingua strana dei mostri arcaici dei mostri arcaici è questo jimbo lei sa cosa sta dicendo questa sera io non ne ho la più pallida idea è questo l'importante per dio esatto e salve a tutti ragazzi questa partita arriveremo al round 10 questa è la sfida ma come il round 10 ma è una tuffecca il round 10 ma certo l'hai visto prima abbiamo fatto il qua il 2 no beh il 3 no forse il 4 il 5 e il 7 il 7 ma perché avevamo trovato intanto host di merda in più avevamo pure trovato gente inutile la gente che crema avevano andato in mona a tutti cioè che persone di merda quelli io 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 per fortuna ho il mio gingo io per fortuna ho il mio gingo trovavamo coglioni e le partite non divertenti per fortuna ho il mio Gianmarco e è a posto così e anche il mio Francesco va bene così io sono Francisco franzisco 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 andiamo a generator station 2 no 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 fermo che bisogna osservare dov'è la cassa qui c'è cos'è sta cosa ritual of the ancients dove sta andando lei venghi qui e apra la porta ecco andiamo alla cassa per dio per dio alla fine grazie vada in mona franzisco premere questa bomba ha il segno di disprezzo il segno di disprezzo una bomba il segno di protezione è bellissimo è bellissimo lui scava prende c'è il remington e lo prendo io adesso vado a terra per colpa del fatto che lei mi ha fatto il remington è come odeo i doppi punti che persona di merda fra la spingarda di ieri io ora è il remington vada in mona franzisco grazie grazie